E benvenuti in questo quarto episodio della serie di Silviembre 2023. Vedo che i video vi stanno piacendo tantissimo quindi sono super super contenta quindi è il momento di andare oltre ed entrare dentro come avevo accennato nel primo video le tematiche che io credo fermamente e infatti sono le tematiche che vengono affrontate anche in Bloomwell che fanno parte del benessere. Un benessere a 360 gradi che non riguarda solo l'allenamento e l'alimentazione ma anche il prendersi cura della propria anima delle proprie emozioni dei propri sentimenti. In modo da imparare a stare bene dentro per poi riuscire anche perché poi è tutta una conseguenza vedersi meglio fuori. Quindi raggiungere un momento in cui veramente ci guardiamo allo specchio e a prescindere da quanti chili abbiamo preso perso dalle forme che abbiamo da riusciamo a vederci dentro nonostante ci guardiamo da fuori. Quindi sicuramente è complicato a dirsi e da farsi ma da qualche parte bisogna partire e oggi affrontiamo la tematica delle gestioni delle emozioni in chiave di ripartenza. Questo è un percorso che deriva dalla mindfulness infatti lo segue la nostra mindfulness coach e in questo particolare video affronteremo l'emozione dell'ansia. Rilevante in questo periodo decisamente perché ogni volta che si ritorna da un periodo di pausa si vuole ricominciare arriva tutto il pacchetto di pressione di il momento è arrivato. È quel momento che hai rimandato da gennaio a giugno da giugno a settembre ora devi farlo ora veramente non hai più scuse e in più tutte le pressioni dal mondo esterno che magari gli avevi detto allora farò da settembre allora a settembre vengono a battere sulla porta. Diciamo che è un periodo abbastanza intenso di pressioni che ci siamo noi messi addosso di aspettative di pressione dal mondo esterno. Quindi è da gestire ecco una cosa molto importante in questi tutti questi percorsi in tutto in generale è affrontare le cose ecco invece che chiudere la pagina chiudere le porte chiudere di metterle in tutto in un cassetto e dire ma beh no provo con l'emozione ma la nascondo non la tratto ecco qui invece si prende l'emozione si mette lì e si dice era rumoroso rumoroso questo clap e si dice ora ti affronto ed è quello che faremo oggi quindi che cos'è la mindfulness mindfulness significa prestare attenzione ma in un modo particolare cioè con intenzione al momento presente e in maniera non giudicante. Se notate sono delle cose che abbiamo più o meno già accennato affrontato e di cui abbiamo già parlato quindi con intenzione significa sapere di dover fare determinate cose no? Come abbiamo fatto negli esercizi precedenti cioè fermarsi un attimo e dire ok io devo fare questo ho l'intenzione di fare questo e lo farò con intenzione al momento presente quindi senza viaggiare sempre con la testa centomila anni avanti da una delle cose più difficili perché io stessa guardo sempre al futuro. a quando sarò a quando arriverò a quando farò e questo ti preclude di vivere il momento presente perché tanto con la testa sei già troppo avanti e poi quando arrivi la uno magari le aspettative erano talmente alte che delude tutto ma poi soprattutto non te ne rendi nemmeno conto perché appena arrivi vuoi già oltre sei già avanti tipo sei all'università non ti godi l'università perché non vedi l'ora di finire iniziare il mondo del lavoro. Quando sei nel mondo del lavoro ti risogni l'università però quando entri nel mondo del lavoro pensi già che ne so quando comprerò quando avrò guadagnato abbastanza per comprare casa e quindi c'è è sempre a parte che quando inizi il mondo del lavoro ti penti di tutto pensi già alla pensione però vabbè non andiamo troppo oltre ma insomma è sempre un continuo pensare sempre avanti senza fermarsi in quello che stiamo facendo ora. Quindi la mindfulness è proprio questo quello di riuscire a fermarsi a vivere perché non è un momento no è proprio vivere più connessi con se stessi più consapevoli di ciò che sono i nostri bisogni desideri volontà che ci permette anche di essere felici delle piccole cose delle cose che ci succedono quotidianamente e soprattutto cosa per me è fondamentale quella di non svegliarci tra 40 anni e dire oddio ma io come ho vissuto tutti questi ultimi anni perché a volte troppo spesso si entra in un loop di cose da fare di vita di vicissitudini eccetera che si vive quasi col pilota automatico si arriva a 50 anni 60 anni teoricamente più o meno il fatto di ritornare un pochino in sé e mettere un freno a questo pilota automatico avviene sempre in concomitanza con un evento abbastanza tragico nelle nostre vite o comunque che ci segna che ci risveglia diciamo che entrare già in connessione con la mindfulness o comunque il rapporto conoscenza con la mindfulness ci permette di risvegliarci prima quindi questa una panoramica della mindfulness ora ci spostiamo un secondo sulla gestione dell'emozione dell'ansia quindi nel percorso di gestione dell'emozione c'è proprio una sezione dedicata all'ansia e la frase che mi ha colpito di più è questa l'ansia è in primo luogo un'emozione di paura ad avvicinarci a qualche situazione o a qualcuno anche se lo desideriamo quindi è tipo autolesionismo cioè vogliamo fare qualcosa lo vogliamo veramente ma l'ansia da prestazione il fatto che vogliamo farlo in modo perfetto eccelso dobbiamo essere i migliori proprio perché lo desideriamo ci mette ansia quindi un modo per gestire l'ansia è quello di comprenderla accettarla e tollerarla senza lasciarsi sopraffare per fare queste cose bisogna soprattutto riconoscerla cioè riconoscere che cosa in che momento perché ci fa provare ansia per poi poterla affrontare per poter capire questo perché bisogna connettersi con se stessi per connettersi con se stessi bisogna meditare e qui arriva il nostro esercizio per questo video di silviembre la meditazione allora lo so io stessa non sono tipa da sedermi sul puff mettermi così e fare home no quindi oggi vi voglio parlare di altre forme di meditazione e voglio incentivare a provarle e vedere quale funziona su di voi ci sono diversi tipi di meditazione infatti non la meditazione non è solo seduti home occhi chiusi e magari il gong su alcuni funziona assolutamente chapeau io dopo un minuto non riesco cioè dopo un minuto mi guardo intorno mi produe tutto non funziona io non funziono così io sono rotta da quel punto di vista quindi forme di meditazione alternative che potete provare sono la meditazione camminata cosa che io faccio molto spesso sarò sincera cioè in realtà quasi ogni sera perché consiste nel camminare uscire e camminare se camminiamo senza distrazioni senza metterci al telefono con l'amica senza spipolare al telefono entriamo in questa ripetizione di gesto di passo che concilia il pensiero nel momento in cui riusciamo a lasciare libera la testa e seguire questo stomp 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 il nostro cervello incomincia ad andare e una cosa fondamentale è rilasciare liberi i pensieri qualunque cosa magari poniamoci l'obiettivo di pensare a quella cosa che ci sta dando preoccupazione sulla quale sentiamo pressione e riguardo quel tema incominciamo a far girare la testa cominciamo a far girare il cervello quella è una forma di meditazione perché ci connettiamo con noi stessi affrontiamo un nostro pensiero e riusciamo a in qualche modo viverlo non bisogna risolverlo ma comunque affrontarlo altra forma di meditazione simile ma diversa è il fare delle cose pratiche e manuali questo come la camminata il fatto di utilizzare le mani per che ne so fare delle composizioni floreali disegnare la manualità riesce a farti un pochino staccare il cervello dai tuoi pensieri perché ti stai concentrando su qualcosa ad esempio per me era veramente meditativo fare l'uncinetto ho smesso però dovrei ricominciare perché il fatto di concentrarti su una cosa riesce a farti un pochino a estraneare col cervello e a entrare nel tuo mondo di pensieri e meditazione pensate io ad esempio quando pulisco la cucina entro una forma meditativa perché faccio tutte cose manuali non devo pensare a altro se non fare delle cose che sono molto basic e quindi il mio cervello ha la possibilità di concentrarsi su se stesso altra forma di meditazione un pochino diversa alternativa è la meditazione guidata quindi prendete qualcuno che vi piace ad esempio la nostra mindfulness coach Tatiana bravissima tramite audio video lasciatevi guidare dalla sua voce che vi darà delle indicazioni su che cosa fare come respirare e cosa immaginarvi e figurarvi in testa quindi molto utile per chi proprio proprio non ce la fa ultimo tipo di meditazione su quale vi voglio un pochino far pensare e provare è il body check in per questo ci si può stendere per terra ma si può fare anche seduti io lo faccio diverse volte al termine dei miei workout anche per le mie ragazze praticamente incominci a pensare alle tue dita dei piedi e ti concentri sulle dita dei piedi poi pensi al piede alla caviglia incominci a muoverlo passa per la per la gamba senti la tua coscia appoggiata al pavimento senti che in realtà il ginocchio è sollevato senti il ginocchio senti la rotola che ti fa anche un pochino male sali su senti i tuoi glutei le natiche appoggiate al pavimento la tua lombare che è un pochino inarcata secondo le normali curve e incominci anche a sentire il tuo petto che sale e il petto che scende grazie alla respirazione insomma questo è un piccolo check in e fa tantissimo perché uno ti rilassa e due ti fa concentrare su qualcosa e in questo modo vedete le cose comuni di questa medita di tutte queste meditazioni è il concentrarsi su una cosa che sia manuale o mentale per riuscire a chiarire la mente e a trovare spazio dentro la mente quindi io vi lascerei qui con questo più o meno esercizio che è quello di trovare la vostra personale forma di meditazione non sentitevi sbagliati se non è la classica l'importante è che funzioni su di voi quindi fatemi sapere quale proverete noi ci vediamo nel prossimo episodio di Silviembre se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale e lasciate un commento grazie ciao ciao